Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi posso giurare che ne vanno, cioè ne vale la pena di lasciarmi 30 like, perché ne vale la pena, ma ragazzi oggi parliamo di una cosa che mi fa triste, io mi speravo, io ho sempre sperato, io ho sempre sperato,-ho sempre sperato, ho sempre sperato di andare Giorno a Romitz e di avere una bancarella dove potete vedere voi i miei fans che mi vedono. Perché non ho tanti iscritti? Perché non ho tanti iscritti? Perché? Vabbè dai, andrà meglio la prossima volta, mi dicevano. Andrà meglio domani. Andrà meglio dopo domani. Ma quei giorni sono passati. La cosa è firmata. Ho 87 iscritti. Io non me ne vergogno. Ma io ho bisogno di cifre tonde, tonde. Ho bisogno di voi, ho bisogno. Io non dico paracce perché sennò la signora si sveglia e mi grida, non sa. Mi raggiungo, mi ripicchiamo, mi ripicchiamo la manetta. No. In questo video parliamo bene. Bene. Quindi, ecco. E anche quest'anno non si va a Romitz. Peccato. Mi sarebbe piaciuto andarci. Mi sarebbe piaciuto andarci. A prendere in giro Antene di Francesco. A prendere in giro Alberico. A prendere in giro tante persone. Ma io, in questo video, ho concludo. Questa è la mia depressione. Visto che, in questo weekend, c'è Romitz. che io non ci sarò per te. Allora tu, tu mi vuoi dare una mano? Iscriviti al mio canale e dammi una mano per andare a Romitz. Per favore te lo chiedo. Lasciami 30 like. Per darmi sempre di più la spinta. E per andare avanti. Io ti ringrazio che stai dando questo video. E ci sentiamo. Ci becchiamo un posto video. Se ci saranno. Quasi non c'è scritto. Non c'è nulla. Meno male c'è saluto. Non meno male. Vabbè, a voi vi mando un sardone. Un bocca al lupone. Bella a tutti. Bella gente bella. Sì, oh.